musica 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 no allora no ma guarda che la membrana ma che stupenda dici quella ibrida hai ricevuto un pochino stufato di 1 con 8 era mio piace con E e non l'ho visto musica musica come catticina idea ah ah un clave milaga ah ragazzi stiamo partendo da dei nablu la stavo mangiando stavo mettendo tipo la carta qui accanto a me e non ho visto la bomba tu vieni a me dire come faccio a giocare con un'arma che non vedo un cazzo davanti vai lì nooo sinistra 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 zitto che dopo la lo sento dopo nella registrazione vabbè e batto lo stesso smitto franger non te la prende franger capito franger non te la prende sai che ti voglio bene e batto lo stesso non non ma ancora ci arresta ma li perde tempo ma sta facendo il giro comunque non so chi mi ha poccato è una sorta B comunque non so chi mi ha poccato ma non posso leggere il poke mi dispiace gg io pensavo a te Marti ti vede tutti io sono diffusa perché se faccio altre tab mi si toglie la registrazione poi devo andare ad sincronizzare la traccia audio è un bordello sembra che mi possa salvare l'arma check in madonna mia vabbè hello raga come sto pushando mid prefailalo subito a destra pre picco se picchi mid sull'angolo lì non sciorri è un gato in testa porco giuda sto due mid mio ho visto che l'unico però è vero in sono le connessioni quelle buone capito in Italia ancora si arcano e ping a 300 vabbè 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 sono arcane chi c'è Quanto tanka, quanto tanka! L'ho preso in testo una volta da... Cosa gli ho fatto? Che scolato! Ho fatto un salto e l'ho preso in testo! Andiamo a comandare! Angel invece gli ho tirato un colpo in testo! Piccolo errore! Andiamo a comandare! Ok, l'ho kill e gli stiamo mortando! Abbiamo uno più certo qua! Bomba, bomba! Ma dai ragazzi! Ma porco giuda! No! L'ho liberato! Eh vabbè! Io non ho capito! Che cazzo! Eh? Perché ci sono dopo? Che cazzo! Eh, ho una macro che scrive quella! Ha ha ha! Che cazzo! Lo prendo, voglio i soldi! Vaffanculo! Uno mite! Uno mite sopra! Planto in B! B! No! Vabbè mi scuola! Cosa! Hello! 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 No! No! Nel lato dei dead Stagato dei bomba pure questo Aspetta aspetta Non sta a scherzare che sono io Dove fosse diverso Il toride Ho fatto tipo un teletrasport E mi sta già sottastico Olaaa Ma dio porco il condotto E' il città Scusa novembre Ma che caccio è scombo Ti sta a chi scocke Ma chi caccio è scombo Ti sta a chi scoperto Ma che scoperte I ci scoperto Chi che scoppetto Ora scopo gaga Cosa come un po' ho spuccio ho spuccio ho spuccio ho spuccio parla in polacco turco uno mid low una destra ma che cacciaio che sbella la mira vabbè non posso sprayarla perchè sbraio di porco quest'arma questo è il difetto che sbella la mira non so perchè questa arma non riesco a giocarla come cs devo censurare la chat devo censurare voglio puscire la chat aspetta che aspetta aspetta che lo nero uno a sinistra no dai dai però ste flash merca giuda vabbè mi vede prima non c'è andare critical ma guarda qui stiamo in due guardami il tunnel che forse ce ne sta uno uno server un altro server un altro server un altro server io boh vedo la gente dopo ti sto pensando è una canzone arriva una critica vabbè va server troppi sono server guarda tu guarda tu ma tu non ti ma sei peggio di un piede addio giochino si sono già passati uno indietreggia è sul plant sta sul plant ero dietro che culo che gioco di merda questo qua mi ha stencato devo censurare la chat marco censura la chat ricordati in server 2 2 sono stressivi 3b 2 mid 2 mid sobra vanno in b vanno in b sono 3 mid vabbè dove 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 dietro struttura dietro struttura non c'è da b scale 1 sul lato sinistro di scale picca scale veloce si ma sto pezzo di merda porco dio faccio fusi di chilo tutti te lo giuro dunque le cambia arma porco dio fammi andare b fammi andare b fammi le chilo tutti un attimo aspetta sai cosa che io riesco a fare quello che devo fare è perché ci sei accanto a me è quello che io no no a clyde dico non riesco ti vuole bene perché lo rifiuti e vabbè questa scula dio porco uno condotto uno mid uno server e nessuno b adesso vaffancio uno che venena lol vengo in aspetta sempre tu adesso che va a b uno b che ha girato in b l'ho sottura l'ho fatto 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 dove è morto ok morto ora che ha ricaricato quello vedi clyde eravamo separati abbiamo vinto il round no non siamo fatti per star a seo l'ho fatto l'ho fatto ok ti sarebbe piaciuto però non si può farlo come ti tocco cosa? cosa? ok non c'entare bella mi è piaciuta b l'ho fatto vieni adesso b pezzo di merda vieni adesso allora martino 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 i tuoi 15 fps come vanno? no non dico a te a martin dico 12 bravo mi piace no c'è ma morito vado è stato uno server visto hello è il taccato a merda dove è il server? si è dentro mancato però non c'è il brain scusa france ma non c'è il brain c'è te ricarichi volcando vicino lo spot fammi capire commentami qui sotto che è successo lo vorrei capire porco di me metto la full hd faccio un colpo mordo in quest'arma beh non è che un altro mid vedi vedete che io con leotech lì io sono un colpo mordo con la full hd un altro mid 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 morto recuperato supreme hero supreme hero non gli scrivere che se metti fama saluare per favore va bene sto scrivendo bastardo lo sapevo con la lingam porca nata con la lingam è più più bassa di te lol io che ce la vibra no porca non è tancato il treno è tancato dio porco il server guarda un altro un altro un altro un altro una tossis guarda sono B sono B l'ultimo è B è B è B guarda adesso salta pezzo di merda salta pezzo di merda salta pezzo di merda ma che risoluzione usi 1280x1024 io io eh bella raga no usavo dipende bravi salta pezzo di merda salta pezzo di merda